amici di radio roma sport ciao da alberto fiano immancabile appuntamento il punto sulla roma dopo roma lione del 16 marzo ovviamente corrente anno e che dire rabbia amarezza e delusioni sono veramente a fior di pelle poiché si è vinto che nel doppio confronto non passa la migliore formazione purtroppo come spesso avviene la dea bendata ha avvoltato le spalle alla roma anche stavolta una partita dominata con ben 25 tiri in porta il loro portiere che ha fatto tre quattro interventi miracolosi decisioni arbitrali veramente dove meglio stendere un velo pietoso per un gol regolare o rigore solare non concessi a mio avviso e quindi eccoci qua a recriminare quello che poteva essere doveva essere e invece purtroppo non è stato la roma la qualificazione credo l'abbia compromessa e di tanto nella gara di andata dove anche lì in molte occasioni non concretizzate e soprattutto non avrebbe mai e poi mai dovuto prendere il 4 a 2 al minuto 91 stia in pieno recupero lì si chiudeva la gara 3 a 2 quest'oggi con il 2 a 1 la roma a quest'ora era i quarti di finale e anche quest'oggi all'olimpico purtroppo si era capito che come ripeto come spesso la storia della roma come dire ci ha fatto vedere la fortuna non avrebbe assistito le giallorossi poiché rudiger se fa quel gol al terzo minuto di gioco anziché stampare la palla sulla traversa da dentro l'area piccola 1 a 0 subito dopo 180 secondi lì cambia totalmente la partita e soprattutto il leone anche potrebbe accusare un contraccolpo psicologico davvero non notevole insomma quindi la roma deve fare tante tante mea colpa perché nella gara di andata quando poteva gestire meglio il vantaggio chiudi il primo tempo 2 a 1 non puoi prendere il 2 a 2 dopo 72 secondi di inizio ripresa e prendi dei gol in fotocopia concedendo agli bravissimi tiratori balistici appunto dell'ione tiri da fuori aria quindi lì devi fare molta mia colpa e poi anche qui all'olimpico purtroppo una sola disattenzione alla prima occasione dopo 12 minuti dove tu avresti già potuto e dovuto fare almeno due gol per quanto avevi creato e come è ripartito prendi il gol sempre di DAB come all'andata che sblocca lo 0 a 0 iniziale quindi ovviamente poi lì tutto viene più complicato la roma a fine primo tempo un'occasione colossale con strotman che da due passi spara in bocca a lopez qui poteva essere il 2 a 1 se nel primo tempo l'avessi chiuso come la roma meritava sul vantaggio del 2 a 1 allora era tutta un'altra cosa purtroppo stiamo a ricriminare sopra una partita che la roma poteva condurre in porto non l'ha fatto c'è tanta rabbia c'è tanta tanta delusione veramente il pubblico ha risposto ha risposto all'appello lanciato perché c'erano oltre di oltre 45 mila persone allo stadio che incessantemente soprattutto dopo il gol del 2 a 1 hanno incitato la roma a questa remontata che è riuscita solamente in parte e quindi non ripeto non passa la squadra migliore e purtroppo dicevo difetti della roma nella gara di andata anche una tenuta atletica non sufficiente dei black out mentali sbagliati approcci alla gara e qui invece nella gara di andata ma soprattutto in questa purtroppo è sorto nuovamente l'ennesima per l'ennesima volta il solito più grave cronico atavico difetto della roma ossia la mancanza di cinismo di quell'istinto omicida di quella ferocia sottoferocia sottoporta che è virtù essenziale per una grande squadra per diventare una grande squadra io lo dissi alla vigilia a Roma del credio con il mio collega e amico Fulvio Micozzi dico la roma non deve sbagliare nulla la roma deve avere questa partita tanta tanta ferocia e soprattutto almeno l'ottanta per cento di palle realizzate pure se riesce a creare solamente cinque occasioni di gol nella partita deve fare tre gol così purtroppo non è stato e alla lunga queste cose le paghi tardivo per me l'inserimento di El Sharawi pessima prova di Bruno Peres buonissima prova di Alisson e anche del resto della squadra Diego purtroppo un po' in ombra un po' in colore ci si aspettava e magari poteva e doveva fare di più il centroavanti bosniaco e quindi anche diciamo in questo la roma ha pagato un po' d'azio ripeto tanta tanta amarezza tanta delusione ma voglio guardare il bicchiere mezzo pieno ossia che ora ormai l'Europa League è andata ed è veramente un grande peccato perché visto i pari squadre che sono rimaste la roma davvero a parte Manchester United poteva andare ben avanti in questa competizione lo scudetto stai purtroppo a otto punti dalla Juventus quindi con dieci partite che restano se non è utopia poco ci manca per non chiudere una stagione a zero titoli come piace dire a Giuseppe Mourinho la Roma deve fare un'impresa epica ossia eliminare la Lazio in semifinale di Coppa Italia nel ritorno che si giocherà il 4 aprile allo Stadio Olimpico dove deve fare tre gol però il bicchiere mezzo pieno è questo proprio perché rimane quello forse l'unico o forse molto sicuramente quasi sicuramente no forse l'unico obiettivo ancora veramente fattibile hai visto mai che la Roma faccia davvero la partita della vita ma ancora di più di quanto l'ha fatta oggi che per una volta una volta nella vita nei grandi appuntamenti cruciali della storia della Roma questa volta la Dea bendata la fortuna ci assista perché insomma non è possibile che ogni volta che bisogna sovvertire un pronostico fare una partita da estrema difficoltà e come dire acciuffare un qualcosa di importante la Dea bendata sempre ci volta le spalle se la vita veramente è una ruota e tutto gira ed esiste una legge di compensazione e una giustizia divina in termini sportivi stavolta deve assisterci davvero come meglio non si potrebbe questo è tutto ripeto la delusione, la rabbia e l'amarezza sono veramente indicibili difficilmente si prenderà sonno questa notte e penso che questo sia il pensiero comune di tutti i tifosi della Roma comunque non abbattiamoci perché bisogna consolidare il secondo posto bisogna appunto tentare l'impresa perché nulla è impossibile impossibile è solamente quello che uno pensa che possa essere impossibile quindi anche se con enormi abnormi, anzi difficoltà però anche in Coppa Italia non è ancora detta l'ultima quindi stringiamoci come stasera proprio vicino alla squadra e sosteniamola sempre per questa grande remontata e anche in campionato diamo il nostro sostegno in casa e soprattutto anche in trasferta con degli esodi massicci perché ora il calendario è favorevole abbiamo dopo impegno casalingo con Stasole e Empoli poi andremo a Bologna dopodiché avremo l'Atalanta in casa poi il Pescara fuori casa quindi la Roma ha il dovere e il diritto e l'obbligo di poter fare e dover fare 15 punti in queste 5 partite che ho appena annunciato facendo 15 punti in queste 5 partite quindi metterebbe a mio avviso una serissima e pesante ipoteca sul secondo posto che ormai è diventato vitale per la stagione della Roma appunto perché garantisce l'accesso diretto alla Champions League e garantisce anche subito degli introdotti economici veramente ottimi cui non può prescindere il magro bottino di casta finanziario che attualmente ha la Roma con questo è davvero tutto vi ringrazio per l'ascolto vi do la buonanotte vi ricordo poi di seguirci sempre dopo ogni partita partita appunto della Roma qui su Radio Roma Sport per il punto sulla Roma e ovviamente non posso non chiudere con i saluti di diritto a persone che per me molto amiche e anche bravissime persone e bravissimi professionisti che per me hanno avuto un ruolo importante nella mia vita per appunto questo raggio di competenza mi riferisco a Roberto De Angelis che con il suo amico Stefano Tini ogni venerdì pomeriggio vi dà l'onore e il piacere di partecipare alla loro trasmissione Questa è la Roma in onda nei vari canali loro Radio Bomber RDA Radio 1 Stop Radio e vi dicendo do un salutissimo ai miei amici di Roma Talk Radio Andrea Materia Fulvio Micozzi dove io ogni lunedì o martedì dalle 10 alle 12 sono spigolo opinionista dove si parla ovviamente di Roma do un saluto alla mia amica Natalia Di Porto grande tifosa della Roma giornalista professionista ex Gazzetta dello Sport do un grande saluto al mio amico Nicola Caprera degli inascoltabili ricordo che ha vinto il microfono d'oro a giugno del 2016 quindi complimenti a Nicola e un abbraccio a Nicola Caprera do un grande saluto alla mia amica dottoressa indizioni in logopedia Annalisa Peruzzi anche bravissima attrice teatrale e cantante per chi fosse interessato alle sue materie può contattare la sua pagina Facebook do un grande saluto anche a Guglielmo Timpano e Flavio Marita Stotti di Gioco Pericoloso la trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle 21 alle 22.45 su Teleroma 56 in diretta e dove io curo la parte di analisi tattiche e pronostico sulle avversarie di Roma e Lazio di turno ovviamente e dopo un saluto anche a Fabrizio Aspri di Roma News anche lui ottima persona ottimo professionista e con questo è davvero tutto e poi saluto tutti i miei amici e voi ascoltatori e se mi sono dimenticato qualcuno chiedo venia ma la stanchezza comincia a farsi sentire e poi anche ho detto la rabbia continua a salire sempre di più per questa ingiusta eliminazione perché ripeto non per essere fazioso ma non passa la squadra migliore con questo è davvero tutto vi ringrazio e chiudo con l'immancabile ovvio intorno un po' più sommesso però non deve e non può mai mancare Daie Roma Daie da Radio Roma Sport Alberto Fiano chiude il collegamento e vi ringrazio alla prossima ah un'ultima cosa dimentichavo per chi venisse in agenzia del Magalberto sito in mia ganglia 141b a nome di Roma News a nome della trasmissione questa è la Roma gioco pericoloso è Roma do credio pronunciando la parola chiave Daie Roma Daie avrà in regalo una giocata gratuita o ai virtual games o alle scommesse reali di 10 euro stavolta è davvero tutto ciao buonanotte e ai prossimi appuntamenti